Buongiorno, io sono Simona Mogavino, un'italiana, sceneggiatrice italiana e sono qui a Bayeux per presentare la serie Alienor D'Aquitaine, Alienor La Légende Noire, nella serie Regine di Sangue. Per il momento siamo usciti io e il mio coscenarista, cosceneggiatore Arnaud Delalande, uno scrittore di romanzi storici. Siamo usciti con tre libri, un altro anno usciremo con il quarto libro di Alienor La Légende Noire e cominceremo a parlare di questa regina francese del Medioevo 1100, XII secolo, che diventerà regina d'Inghilterra, sposerà Enrico il Plantageneto e dunque finiremo il secondo ciclo con sei libri. Ci tengo tanto a presentare il mio disegnatore che si chiama Carlos Ernesto Gomez, lui è argentino, è la prima volta che lui lavora in Francia. Io ho avuto la fortuna di poterlo portare in Francia, molto celebre nel mio paese, nell'Italia, è veramente un grande disegnatore e spero che tutti i francesi potranno darmi ragione, perché è veramente un grande, un grande talento.